C'è un parametro che dà la misura di un dominio nel campo dello sport e ovviamente anche in quello della Formula 1. Si chiama noia. Quando un pilota e una macchina cominciano ad annoiare, significa che la superiorità è diventata nettissima e urge un caffè di quelli buoni per non addormentarsi prima della conclusione del Gran Premio. Verstappen e la Red Bull in questo momento stanno dominando come nell'era moderna era accaduto a Schumacher con la Ferrari e poi a Hamilton con la Mercedes, protagonisti di gare scontate già prima della partenza, quindi noiose da vedere. Verstappen però non ha colpe per quanto è accaduto domenica a Città di Messico, perché se nel corso di 71 giri non c'è stato un sorpasso vero nelle prime 10-12 posizioni significa due cose. La prima è che ci sono gerarchie tecniche che non si possono ribaltare da un momento all'altro. La seconda è che magari la colpa è anche in gran parte di un circuito come quello messicano in cui si è esaltato sin troppo ciò che è stato chiamato il serpente, ossia una serie di curve senza fiato dove le macchine sono obbligate ad andare in fila indiana, ma poi non c'è un punto dove chi voglia osare possa fare una staccatona alla grande ed emozionare il pubblico. A dire il vero c'è stata un'eccezione. Il grandissimo sorpasso, manco a dirlo, fatto da Max Verstappen, protagonista magistrale della prima curva, con la complicità di Valtteri Bottas, che invece di coprirsi le spalle da chi aveva dietro, si è preoccupato di proteggersi dal compagno di squadra Hamilton che lo stava scavalcando all'interno e che lui ha bellamente chiuso, lasciando a Verstappen un'autostrada per andare al comando. Adesso se quella di Bottas, la manovra di Bottas, sia stato un errore cercato non lo sapremo mai. E ancora meno sapremo se invece si sia trattato di un gesto di ribellione a quello che ovviamente voleva la Mercedes e che chissà quante volte gli era stato sussurrato prima del via. Ma certe complicità sono piuttosto difficili da chiedere a un pilota appena licenziato e quando accade il contrario se ne deve prendere atto senza troppe lamentere, anzi tacendo. Siamo uomini di mondo, no? Verstappen ha dominato e poteva arrivare al traguardo con un vantaggio abissale. Ha deciso lui di contenerlo in 16 secondi soltanto. Ma il fatto che Sergio Perez si sia piazzato terzo, arrivando nella coda di un Hamilton che non vuole arrendersi all'evidenza, dimostra quanto sia forte la Red Bull, spinta da un motore ibrido Honda che è nettamente superiore all'unità motrice della Mercedes. E la Ferrari? La Ferrari si è consolata con poco. Leclerc quinto e Sainz sesto in una gara nella quale, visti i precedenti di Austin, avrebbe dovuto in teoria puntare al podio. Non è stato così e Binotto ha un bel dire che si è comunque trattato di una gara utile, neologismo inventato che gli fa onore quanto a fantasia. Ma Leclerc è giunto al traguardo a un minuto e venti da Verstappen e Sainz si è addirittura beccato un giro. Sì, abbiamo capito cosa intendeva dire il responsabile della gestione sportiva. Una gara utile, ovviamente in proiezione 2022. E siamo ancora lì, alle promesse spostate all'anno che verrà. Alampi che ogni tanto illudono e ci fanno sbilanciare nell'ottimismo dinanzi a una realtà che invece è dura da digerire e soprattutto da spiegare senza ricorrere a giochi di parole.